Ciao a tutti oggi prepareremo il liquore Sambuga. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti più 20 giorni per l'infusione. Gli ingredienti sono anice stellato, cannella, chiodi di garofano, la buccia di un limone non trattato, alcol 95 gradi per alimenti, acqua, zucchero e una boccia con chiusura per l'infusione. Diamo il via alla ricetta. Nella prima fase non utilizzeremo il bimbi, andremo a mettere nella boccia prima l'anice stellato, poi i ghiotti di garofano, la buccia di mezzo limone e la stecca di cannella che vi consiglio di spezzettare per aumentare l'odore. Dopodiché andiamo a riempire la boccia con l'alcol. con l'aiuto della spadola andiamo un po' a sistemare. Dopodiché lo andremo a chiudere e lo riporremo in un luogo al buio e asciutto per 20 giorni. Di tanto in tanto andremo ad aprire la boccia e ad amalgamare gli ingredienti. eccoci di nuovo qui. Dopo 20 giorni il nostro alcol aromatizzato è pronto. Adesso lo andiamo a filtrare con un colino a maglie strette rivestito da una garza. dopo aver filtrato l'alcol. Adesso andiamo a preparare lo nostro sciroppo. Siamo all'interno del boccale lo zucchero e l'acqua. e lo faremo cuocere per 6 minuti. 100 gradi. Velocità 1. nostro sciroppo è pronto. Adesso lasciamo lo raffreddare all'interno del boccale. Dopo aver lasciato raffreddare il nostro sciroppo andiamo ad aggiungere l'alcol filtrato e aromatizzato. lo andiamo ad amalgamare per un minuto a velocità 1. il nostro liquore è pronto. andiamo a trasferire in una bottiglia. dopo aver riempito le bottiglie lasciamolo riposare per almeno una settimana prima di utilizzarlo. liquore sambuca. Grazie e alla prossima ricetta. e alla prossima ricetta.